ok eccoci di nuovo qua oggi invece facciamo il piano dal 21 al 40 sempre 20 piani stesso team squadra che vince non si cambia quindi useremo effettivamente sempre loro no ho sbagliato non cliccate mai quel tasto mi raccomando se no vi pusha la torre fin dove riuscite e non riuscite a fare special room purtroppo questa è un'abitudine che becco ogni tanto proprio per come giocavo io insomma nel lasciare fk dungeon ok qua comunque dovrebbe essere tutto automatico quindi easy come vedete la gatta fa dei danni enormi il nostro amico lizard man di nuovo questa volta è durato meno di prima perfetto ok next floor stiamo sempre attenti io ho sbagliato a mettere l'automatico siamo al piano 22 come vedete ci hanno messo anti heal quindi dobbiamo cercare anche di fare molti danni noi per cercare di sconfiggerli in meno tempo possibile per me onestamente questo gioco prevede si il fatto di resistere soprattutto magari boss finali del gioco però punta molto anche nel one shotare magari i mostri ci sono dei record che vanno a 6 secondi e mezzo per tirare giù dei boss quindi sicuramente si punta anche nello shotare i mob piuttosto che alle cure come faccio io io sono molto sostegno sono uno che ha mainato esclusivamente personaggi di supporto tank quindi per quello punto magari alle cure o alla difesa quindi se vedete me sicuramente sarà sempre a che fare con una persona che punta appunto al supporto so a volte che sono andato con tre healer più me che sono un healer e siamo in quattro solo per supportare il final boss quello delle hero are quello di insomma baphomet piano 24 allora stiamo al piano 25 piano 26 che sta andando tutto tranquillissimo addirittura forse qua è meglio mettere l'arma water perché comunque i vari piani hanno i mob abbastanza preimpostati quindi se vado dell'arma water dovrebbe andare tutto a posto sì perché questi piani tenderanno ad avere maggiormente mob di tipo fuoco scusate se mischio italiano con inglese ma non mi riesce proprio di parlare solo italiano alcuni termini devo per forza di in inglese ok siamo al piano 27 ok andiamo al piano 28 ok piano 29 perfetto si shotta tutto ancora quindi direi che non ci sono problemi insomma ora non so per quanto tempo speriamo che duri abbastanza insomma ok e marshal cat è fortissima finalmente siamo al piano 30 abbiamo sec mette contro che ci toglierà tutti i nostri buff nessun problema di qua usciamo mi raccomando io avevo messo l'automatico quindi usciamo ogni 10 piani quindi schippate ovviamente il video o comunque mandate il piano che vi serve cioè andate al piano che vi serve ok ok possiamo rimettere il nostro team battle start io qua in realtà facevo addirittura fk ma però vediamo io ora mettevo l'arma light con china e questi tre mostri è veramente easy a parte che su oracle ve lo faccio vedere un attimo ma sembra essere molto 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 buono soprattutto in pvp mettere le rune di tipo despair le rune di tipo despair vi fanno mettere chance stun con le skill che vuol dire? vuol dire che se lei skilla tira dei cerchi questi qua fanno tre colpi effettivamente ogni colpo ha la possibilità di stannare il nostro obiettivo il nostro bersaglio questo può essere utile sia contro i mob che contro i boss no scusate che contro il pvp eh dovete pazientare ma sono veramente stanco ok possiamo tranquillamente continuare come vedete sono riusciti tranquillamente in fk perfetto oh finalmente una light and darkness scroll finalmente dopo un secolo e mezzo siamo riusciti anche noi ad ottenerla anche perchè dovrò fare un video di un pool quindi sicuramente farà parte di quel video questa scroll ok continuiamo la nostra scalata e andiamo per la torre 31 rimettiamo i nostri mob i soliti comunque se avete la possibilità di usare i mostri più forti fatelo assolutamente anche perchè va bene dire free to play ma non va bene neanche essere fessi cioè usateli usate i mostri forti che avete piano 31 piano 31 piano 32 come potete vedere già cominciano a toglierci un po' di vita questa volta questa volta forse è meglio l'arma wind vedo che ci sono dei mostri water si decisamente a parte che l'arma wind comunque ci permette di aumentare i dot che loro ricevono piano 31 e in più ci permette anche sicuramente di curare perchè siamo keen ma anche di togliere beneficial quindi usiamola piano 32 ok ok Ok, andiamo al piano 34, come potete vedere ogni tanto mi si attiva la missione secondaria, ma non sempre, perché arrivando a livelli più alti purtroppo sciotti tutto e quindi non fa in tempo a fare la missione secondaria, dove di norma dovete appunto difendervi o magari mettere un buff, un debuff e così via. Questi sono molto pericolosi elementali, soprattutto in Tower Hard, ci avrete problemi sicuramente. Comunque la torre è sicuramente difficile in early game, però il mid game comincia già a essere fattibile. Quindi una volta che avete finito la storia, una volta che avete cominciato a capire di livellare almeno 3 mostri del vostro team, almeno 3 mostri devono essere maxati, non dico per forza quegli skill point di 5 stelle, però dovremmo essere già riusciti, anche perché quei tutorial che ho fatto non è poi così complicato. In un mese di norma in questo gioco riusciamo tranquillamente ad ottenere buonissimi risultati. Anche se questa versione di gioco che io sto facendo è l'antecedente alla Global, quindi la Global ancora non è uscita, non so quali aggiornamenti faranno, però si pensa che comunque la torre per adesso la tengano così. Ok, questo è ancora il piano 37. Ok, piano 38. Sono crashato, purtroppo mi ha laggato, ho dovuto riavviare il computer, connessione e tutto, quindi il piano 37 era stato fatto, andiamo al piano 38 in poi. Per non parlare del fatto che comunque adesso sto in Hotspat, quindi... Spero che il video riesca pulito, però mi dispiace, vi chiedo scusa davvero. Ok, continuiamo la nostra scalata per il piano 200. Ce la posso fare, eh? Ok. Guardate che roba. Piano 39. Questo vi consiglio di farlo in una settimana, scalare 200 piani un giorno, 200 piani nell'altro giorno, come ho fatto io, è una cosa improponibile. Comunque laggo, si vede già. Ok, piano 40. Qui come vedete abbiamo il Monkey King come boss. Qui in questo caso era davvero molto utile invece avere l'arma verde, l'arma wind, per tagliare lo scudo. Ok, fatto questo, abbiamo finito. Possiamo andare sempre nel nostro special room e cercare di fare altre shard e altro tutto. Ok, andiamo. Quindi 1, 2, 3. Battle start. Quando usiamo Kina, mi raccomando. Arma light per sicurezza, perché... Questi mob fanno davvero davvero molto male. Come skill primari usate sempre su Bastet ovviamente lo scudo. Poi esistono comunque combo migliori, io vi faccio vedere, scusatemi, quelle che dall'inizio comunque del server sembravano essere quelli piloni. In realtà si stanno scoprendo altre combo di monstri, quindi poi al massimo in altri tutorial, altri video li vedremo tutti insieme. Ok, continuiamo così. E io qua mi ero scordato di utilizzare l'arma wind. Perfetto. Ok, fatto questo, abbiamo droppato altri frammenti e ci vediamo nel prossimo video.